Due ore di spettacolo di cui una di canzoni, quelle che piacciono alla piazza e cantare da tutti, è una di risate spassose. È tutto pronto per l'esibizione del comico abruzzese Germano D'Aurelio in arte in Duccio, che domani aprirà la festa civile di San Panfilo. L'edizione 2019 è tanto attesa per il rilancio annunciato e ospicato della festa negli ultimi anni caduta nel dimenticatoio. Con un videomessaggio dedicato ai nostri affezionati lettori e telespettatori e a tutta la cittadinanza di Sulmona, il comico in Duccio lancia un appello alla partecipazione. Grazie Andrea che mi concedi questo piccolo spazio. Io sono un Duccio, ma sono cognonimo di Andrea D'Aurelio perché il mio nome è Germano D'Aurelio. Perché questo collegamento e questo attimo di appello? Perché sabato 27 sarò a Sulmona per la festa di San Panfilo. Già è stato detto che è un rilancio dei festeggiamenti civili in onore di San Panfilo. Io sono onorato perché torno al centro di Sulmona dopo qualche anno in una occasione importante, quindi la festa del Santo Patrono. Certo, non sarò con la mega band e con tutti gli amplificatori, le luci, le cose. Faremo una cosa un po' più modesta, un po' più tranquilla, ma sicuramente, come si dice, all'uopo. Verrò con una formazione più piccola, saremo in trio. Io e il cantante che è famosissimo e bravissimo è Luca Ragnone e il chitarrista Loris Donatelli. E forse già sapete che saremo in piazza dalle 21.30 fino a un paio d'ore sicuramente. Poi vediamo se il tempo, se la temperatura mantiene, magari pure fino a mezzanotte. Che devo dirvi, sarà un'oretta prima di canzoni bellissime, tutte italiane, tutti degli anni nostri. Quelle canzoni che piacciono di più alla piazza e quelle che poi alla fine sono per i meno giovani come me. Però alla fine sono canzoni cantate da tutti, soprattutto dai giovani. E poi faremo un'oretta, un'oretta e un quarto di risate e di stupidaggini, come usa Farenduccio con qualche canzone dell'epoca. Beh, vabbè, quelli della mia età ricordano tutto. Wapapà, Sotta la capanna, Lusetaccia, Pesaruchiove, non lo so. Vedremo poi la sera stessa se fare più canzoni o più risate. Grazie ancora ad Andrea per questo spazio che mi ha concesso. Vi aspetto numerosi, anche se l'amplificazione non è straordinaria, diciamo un 4000 watt. Però un watt a testa per 4000 persone va molto bene. Ciao, vi aspetto.